questo è un viaggio ai limiti della fantascienza in un mondo dove si possono rompere le regole è una nuova visione dell'universo che supera ogni immaginazione è il mondo della teoria delle stringhe un modo per descrivere tutte le forze e tutta la materia dall'atomo alla terra fino alle galassie dall'origine del tempo fino allo scoccare dell'ultima ora con un'unica teoria la teoria del tutto la nostra guida in questo mondo nuovo è brian green fisico e scrittore scientifico green ci aiuterà a comprendere il più grande enigma della fisica moderna dopo decenni potremmo davvero essere vicino ad una svolta la soluzione sta nelle stringhe minuscole particelle di energia che vibrano come corde di un violoncello in una sorta di sinfonia del cosmo grazie a tutti grazie a tutti